Lo si sapeva, la Suprema Corte l'ha confermato, non si può con decreto modificare e riordinare le province. Le fa più rabbia o cosa questa decisione, questa sentenza? Insomma, viene fuori uno spaccato di un Paese che veramente raggiunge livelli di confusione che non credo abbia precedenti negli Stati europei. Perché fare un decreto per riformare un livello amministrativo, costitutivo della nostra Repubblica, la nostra Costituzione è veramente fuori dal mondo. Giustamente la Corte Costituzionale ha detto che è fuori dalla Costituzione decretare la riforma di un ente intermedio come la provincia. Naturalmente oggi si apre, come spesso accade nel nostro Paese, una situazione incredibile. 18 province che non sono state mandate al voto e quindi commissariate ora dovrebbero immediatamente tornare al voto. Ma potrebbero tornare al voto dal 15 aprile al 15 giugno perché la legge prevede che si voti in questo periodo. Poi c'è tutto il discorso che riguarda la riforma vera del titolo quinto della Costituzione. Io sono convinto che bisogna ripartire dal codice delle autonomie e quindi stabilire chi e che cosa deve fare in questo Paese. Poi possiamo discutere di tutto, anche di ridurre o sopprimere le province. Ma prima dobbiamo avere un quadro preciso perché questo Paese non funziona. Non funziona e non c'è bisogno di uno spot, non c'è bisogno di trovare un capo espiatorio perché il Paese torni a funzionare e torni ad essere moderno.